oggi ti faccio vedere una vera leggenda del borsone del nuotatore magari li conosci già e se non li conosci te li presento io ecco a te gli occhialini speed socket 2 di speedo questi occhialini esistono ormai da tantissimi anni e la seconda versione è stata migliorata per garantirti un'esperienza ancora più efficace grazie alla visione periferica aumentata e rivisitata il cinturino a doppia testa ti garantisce una vestibilità sicura e le lenti con tecnologia anti fog ti garantiscono una visibilità eccellente ideali per le gare lenti specchiate o color fumo per la protezione solare ideali per il nuoto all'aperto ponti nasali intercambiabili lenti anti fog o anti appannamento protezione raggi uv doppio cinturino in silicone gli occhialini spizzo che due sono disponibili in tantissime colorazioni scopri le tutte nel link in descrizione attenzione nuotatore non sfregare con le dita o con qualsiasi panno le lenti degli occhialini gli occhialini dopo l'utilizzo vanno sciacquati esclusivamente con acqua dolce non salata e non clorata solo così riuscirei a preservare la tecnologia anti fog delle lenti e la loro integrità ora ti mostro un vero pezzo di storia gli spizzo che tu questi occhialini hanno fatto parte della vita di tantissimi nuotatori negli anni facci sapere nei commenti se anche tu li hai avuti vuoi rimanere aggiornato sul mondo del nuoto tuffati nel nostro canale e vai sul nostro sito per ordinare i tuoi spizzo che due di spito